Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tecnologia Spero che l'audio sia abbastanza settato bene perché stavo facendo delle prove prima col microfono E non so che cacchio può essere successo Comunque, cosa facciamo in questo video? Allora, prima di tutto Prima di tutto Ho fatto degli esperimenti Vedete questa cesta? Vedete questa cesta? Vedete, vedete, vedete Vedete? Io ci ho messo il quicksort Ecco, il quicksort fa schifo Vedete cosa? Eh sì ragazzi, ho craftato anche un altro quicksort l'altro giorno E ho fatto una cazzata apocalittica Perché il quicksort fa schifo Ma non un pochino, fa proprio schifo schifo Voi ci scherzate? No, veramente Ho fatto un po' di prove Ho fatto delle prove serie anche E è risultato che il quicksort è il modulo più schifoso Il migliore per estrarre oggetti in una cesta è l'extractor MK3 Esatto, io sono rimasto un po' perplesso quando ho visto sta cosa Perché effettivamente l'extractor è un modulo del cazzo, se così si vuol dire Cioè non vale niente Perché? Perché è molto lento estrarre Invece l'MK3 ragazzi estrae Ascoltate Uno stack a tick Cioè estrae fino a 20 stack al secondo E stack sani No oggetti singoli Non so se ho reso l'idea L'MK2 ad esempio Quello che usiamo noi Estrae uno o due oggetti alla volta Quella che abbiamo usato per svuotare la cesta di legna ad esempio Guardate Sta ancora acquista Se ci mettete un'MK3 la svuota in 10 secondi Ve faccio vedere Ve faccio vedere Allora io dovevo prendere Aspetta, ma che si faceva? Non mi ricordo mica cosa feava un extractor Ce n'avevo già un'MK2, vero? Dove è? Extractor? Chissà dove l'ho messo Eh, bella domanda Che fine avrà fatto l'MK2 che fece al tempo? Beh Ve lo ricordate? Che ne fece un'MK2 Non mi ricordo perché Perché stavo a provare delle cose E alla fine mi è sparito E io sapevo Vabbè Comunque Ho un extractor base Dall'extractor base già si comincia Dovrebbe essere più facile a sto punto Vediamo un po' Extractor MK3 In teoria non dovrebbe cambiare nulla Fra l'Advanced e il normale Però io faccio l'Advanced Perché fa figo Non è vero Facciamo Facciamo il normale L'Advanced Basta prendere un'Advanced base E potenziarlo Cioè alla fine è una stupidaggine Vedete Extractor MK3 più Redstone Cioè Easy peasy L'MK3 si fa Con l'MK2 Che ci va l'oro sopra Quello base Ah ok Quindi serve un altro ingranaggio Io ho fatto questo Non serve niente Quindi serve un altro ingranaggio d'oro Oro? Vieni qui oro Ok Basta fare un altro ingranaggio d'oro Molto semplicemente ragazzi Upgrade Facilissimo Perché il primo si fa con quello in oro E in ferro Questo si fa con quello in oro Questo si fa con quello in diamante E poi diventa Advanced Con un segnale Redstone Molto facile Guardate Più facile di così Basta mettere la Redstone E l'MK3 insieme E non va A sopra forse Perfetto Ah perché dobbiamo metterla sopra Capito? Simpatico Ok Quindi togliamo il Quicksort E mettiamo l'Extractor Vi faccio vedere quanto ci mette a estrarre Se parte magari Ah E non dimenticate mai Cliccate qui e mettete Excluded Ha smistato tutto in un attimo Effettivamente perché qui c'è questo incrocio? Non mi piace per niente sai Via Via Qui ci deve essere una basic E qui questo Perfetto Ok E adesso abbiamo un Extractor Vi faccio vedere quanto è veloce nella cesta del legno Così vi rendete conto Perché vi dico che è un assurdo Molto meglio del Quicksort Guardate Cesta del legno Piena Mettiamo Quicksort Eh no Extractor via Atom Stink Lo lasciamo Advanced Extractor MK3 Via Guardate come stai Oddio piano 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 Ferma ferma troppa roba Ok ragazzi Ha svuotato una cesta in diamante In dieci secondi Ok perfetto Abbiamo constatato che l'Extractor MK3 È molto meglio Del Del Quicksort Perlomeno per estrarre Eh il Quicksort Serve a sortare Quando c'è una destinazione Fanno due lavori diversi Comunque Tutta sta gomma deve andare a finire dentro la cesta del diamante di gomma Non so quando ci andrà Quando il Quicksort lavorerà Mentre la carbonella sta esplodendo E devo fare subito un disco migliore Comunque devo upgradare la cesta della carbonella Non va bene questo Non va bene per niente Quindi tutto il progetto che io stavo Esplode gomma comunque I danni ragazzi Sto facendo veramente I danni Comunque Prima che mi è esplodato l'impianto Dato che la cesta della carbonella È 32k fissa a strapiena Devo dare una destinazione alla carbonella Tipo per ora la mettiamo qui Dove stava prima Sì ok Mettiamo una destinazione qui Metti un item sync Non provider Meno Quicksort Destinazione Dov'è l'item sync? Ma non il mod buzzed Non c'è un item sync? Ah ecco Dicevo Ok parliamo Ne abbiamo fatti duemila Ok E aspiriamo su Eh ragazzi Queste sono cose importanti da fare in casa Perché ogni volta ci sta un problema Sistemare Non fare Cosare Allora vediamo quanto quartz avevo prodotto L'altra volta 27 Con 27 Non so che disco può venire fuori Un altro da 4k Però tutti dischi da 4k Per la carbonella A sto punto La cesta non va più bene allora E come faccio A dare un valore alla carbonella? Posso mettere un ME monitor Ok interessante Sì ragazzi Io non voglio usare L'ME interface Io probabilmente In questa serie Non farò mai l'ME interface Per ora Cioè almeno Quello che penso fino adesso Poi se in futuro Cambierò idea Ce ne parleremo Proprio adesso Non ho la Neanche lontanamente L'intenzione di fare Un ME interface E sì Un ME access termina Scusate Ok Se io voglio fare D-drive ME drive Voglio fare altri 4k Così faceva 4k Era facile se non sbaglio Giusto? Gli schetti Sì Ok Ne crafto un po' Ok Me ne sono venuti fuori Solo 6 Perché solo 6? Non ce n'ho altri Scusami Ho finito il quarzo No Vabbè Per ora si accontentiamo Dai Allora Ah quindi No no Non è un problema Craftarlo Questo è facile Redstone Ah è vero I circuiti ce li ho Sì giusti giusti Ok però mi manca del ferro 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 Vieni qui Vieni qui Vieni qui Ok ragazzi I circuiti giusti giusti Meno male Ce ne ho 9 Incredibile Manca il vetro Non il ferro Ovviamente senza vetro Come faccio a fare un disco C'è il vetro dentro i dischi Perfetto Ok Due storage E altri due 4k Perfetto E adesso l'iformato Impostando come oggetto Prodefinito la carbonella Qui dovrebbe essere tutto Esploso ragazzi Ogni volta che metto una cesta Esplode tutto Ok 4k Lo sapete cos'è che mi preoccupa invece? Lo sapete cos'è che mi preoccupa? E che qui ce ne entrano 32k Quanto pensate che ci vorrà Arrivare a 90k E ripiere anche questi due? Per me è un cavolo 96k con tre dischi eh Sono pochi per me Però vabbè Dettagli Più avanti penso che farò Un 16k O qualcosa Comunque qualcosa di più sostanzioso Un 16k Quanto ci vuole per farlo? Eh Eh Un bel po' più dei quarts Devo andare a scavo un po' De nether quarts Ah Posso duplicarlo Nether quarts Con l'energy manipulator Ok dovremmo mettere un pezzo Di energy manipulator E poi faremo tantissimo quarts Uh Geniale Genial Ok E 4k storage E formatiamo Mettiamo un pezzo di carbonella Formatta Ok Partition Allowed Precise Perfetto Anche qui Formatta Perfetto L'abbiamo formatati per la carbonella E adesso il drive che io avevo Tempo fa Che ora è sparito Io avevo un M-Drive Chi me l'ha battuto? Lo cacchio sta l'M-Drive Oh Raga Lo ricordate anche voi l'M-Drive Vero? Eccolo là sotto Perfetto Ok Questo è M-Drive Lo lascio lì Va benissimo Non è un problema E ci metto questi da 4k Per la carbonella E ci metto anche questo da 4k Per la carbonella Perché non posso tenerlo In una cesto Aspettate Ma se io lo metto qui Mi fa vedere solo la roba Nella cesto O quella di tutto l'impianto? Vediamo Dovrebbe arrivare della carbonella Nell'impianto Aspettiamo Aspetta Facciamo così Apro questa Dov'è l'extractor Dev'è l'extractor M-K3 Vai Ok Tutta la carbonella Sta andando all'interno Delle M-Eure Dovrebbe arrivare Eccola lì Guardatela Guardate quant'è Mamma mia Vediamo se me la fa vedere Nella cesto No Purtroppo no Nei drive me la fa vedere Vediamo un po' Sì Eccola Sta entrando Perfetto E allora Rinunciamo alla cesto E mettiamo tutto nel All'interno del drive Non mi frega niente Tanto non ho bisogno Di vedere la carbonella Ragazzi Basta so che c'è Non ho bisogno Di vedere quanta c'è Non ho bisogno Di aprire la cesto terminal Per prelevarla Non ha alcuna utilità E questa M-E chest La lasciamo in disuso Per ora Perché poi la destineremo A futuri scopi migliori Che cacchia è successo Qua dentro Perché è tutto settato In questo modo Che cosa brutta Ok Intanto togliamo qui L'extractor E rimettiamo la farm Di alber Perché altrimenti Esplode tutto Oddio La roba che ha tirato fuori Ha aspirato il mondo Ragazzi Intanto qui Questa industria Centrifuge Sospente Perché manca energia E dovremmo cominciare A fare un po' di energia Della industria Craft Ma prima 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 Devo fare una cosa importantissima Che è il query Ricordate che il query Si è fermato Io adesso Devo cominciare A far girare Sto query Ragazzi Non è che è fermato Un query Finita la partita GG Tutto il query No Adesso devo passare Al query successivo Come faccio di soldi Ovviamente E io dovrei avere La workbench Eccola qui La nuova query plus Ragazzi Che è stata aggiornata Anche nell'152 Cioè praticamente Il tizio che ha fatto La query plus Pensate quanto è genio Ha fatto l'aggiornamento Della mod E l'ha aggiornata In tutte le versioni Anche nell'152 L'147 Pensa che figata È un genio Quell'uomo Troppo bravo Ovviamente Vorrei specificare Che è un coreano O giapponese O quello che sia Comunque Penso sia più Giapponese Che coreano Però dettagli Quindi mi fa capire Il tipo di mentalità Ha fatto l'aggiornamento Per tutte le versioni Oh matto E ha aggiunto Questa workbench plus Che si crafta In questo modo Adesso vado subito a craftare Se permettete Andiamo Andiamo Allora Non vorrei illudervi Ma non credo proprio Che i blocchi Si craftano in questo modo Decisamente no ragazzi Sapete che noi abbiamo La nostra carissima amica Gregtech Che ci ispira ogni giorno E ci permette Di non fare i blocchi E dobbiamo andare Nel complesso A craftare i blocchi Che bello Allora Mi servono Quanti blocchi 2 di oro 1 di diamante 3 di ferro Quindi sono 9,18,27 ferro 3 blocchi E 9,18 Di oro Perfetto Lasciamolo Ah e anche 9 di diamante 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ok Lasciamolo craftare Molto bene Molto bene I blocchi di ferro In diamante Sono pronti Manca solo Quelli in oro Mentre aspetto Quelli in oro Sapete che faccio Me ne vado Un attimo Nel nether A prendere Quel quarzo Famoso Che dicevo Da duplicare Andiamo Andiamo Che succede qua dentro Oh 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 Piano Oh ragazzi Sono cacchiati tutti Come appena sono entrato Ok Mi basta un pezzettino Di quarzo Eccolo lì L'ho già squadrato Che cosa ho L'inventario Mi controller What Che cosa è questo Va bene Non lo voglio sapere Ragazzi Ho trovato un mi controller Nel nether Ok un pezzettino di quarzo Grazie Ci siamo Ci siamo Ok Non so da dove è uscito Questo mi controller Me lo tengo Perché fa figo Chi cacchio è troppato Un mi controller È un bug Cos'è Non lo so Non lo voglio sapere Andiamo Ce ne va Un mi controller Ho trovato Oh what the fuck Va bene Ok Sono Wow 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 C'è piano Meno male C'ho questa super armatura GG A questa armatura Ragazzi Un mi controller Vabbè Che mi serve Vabbè Lo lascio qua per ora Non so Emettiamo un energy manipulator Il quarzo Che dovrebbe valere poco Ok Bisogna aumentare il valore Di questo quarzo Oh quante energy Sì ragazzi L'avevo messo a duplicare Perché mi servivano Per questo crafting Che sto facendo adesso Comunque Dovremmo avere tutto Vediamo un po' Dove sono i blocchi di oro Eccoli qua E adesso andiamo a craftare Il tutto che si fa Con redstone Che non ho redstone Eccolo qua Redstone Vai Crafta Bam Workbench plus Ragazzi La workbench plus Non è altro che una workbench Però plus Come dire Ah simpatico È una workbench plus In teoria Ci si deve buttare energia Con i laser Ci si deve buttare energia In teoria In teoria Non è tutto Stabilito Incisivo Proviamo però La piazza Vediamo che dice Sì Sì Ci devo buttare energia Con i laser Noi i laser Ce l'abbiamo Perché l'abbiamo usati Con i circuiti Cacchio stanno i laser 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 Eccoli qua Ne metto un po' rando Perché alla fine Fino là credo ci arrivino No mi stai troppo lontano Mettiamo un po' di laser Vediamo che succede Guarda dove li sto mettendo Ragazzi un po' ovunque Ok Arrivano fino qui Oh la metto un po' più avanti Dai No vabbè va bene qua Ok Per fare il nostro query plus Quindi Query Plus Ci serve 3 ender per 24 redstone 96 di ferro What the fuck Ok Accumuliamo tutti i materiali Ok Ho il ferro e il diamante Eh no Allora il diamante Manca il ferro 96 di ferro Io ce n'ho Eh Dividiamoli se non si capisce 60 più 36 Me ne manca uno Perfetto 96 di ferro E poi mi serve 24 redstone E 3 ender pirle Che io già ho Dove l'ho messo i ender pirle? Eccolo qua 1 2 3 Ok Dovrei avere tutto Andiamo a mettere nel workbench plus E vediamo che succede Non l'ho mai usato ragazzi Questo è un aggiornamento nuovo Tutto innovativo News Eeeh Rezzo Uh Cos'è facile? Query plus Non parte? Ma non parte Ok Questo Questo potrebbe essere un problema Questo potrebbe essere un problema Perché non parte? Wow 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 Non è che ci devo buttare energia direttamente dentro? Mmm Scervelliamoci un attimo Ah Ok ragazzi Svelato l'arcano È stato più semplice Di quanto pensassi Il genio ha deciso che È un semplicissimo macchinario Che ci si deve attaccare a un cavo Non è più al laser Ok A me va bene Non me la metto Ma però Ok Lo pensavo un po' più fantasioso Come omino È un omino poco fantasioso Insomma Sto carpenter Se va anche toglie Perché non serve Sto incrocio qua Lo togliamo Perché non serve E mettiamo questo qua Perfetto Oh Mo si ragiona Sembra anche abbastanza veloce Beh effettivamente Sto buttando dentro un bel po' Di mega jowla tic Parliamone Ok Va bene ragazzi Per questo video è tutto Nel prossimo video avremo un query plus Che andremo ovviamente a piazzare Ovviamente utilizzando tutti i nostri Energy tesseract E faremo anche due item tesseract Perché ovviamente Anzi Mi vado subito a craftare L'hardener glass Ce l'ho dove? L'hardener glass Guarda quanto ce l'ho nell'inventario Amico ce l'ho fatto caso Il tin dove? Il tin Il tin Devo aggiungere anche un valore energetico Al tin e al rame Che ancora devo deciderlo Non so ragazzi Non è facile decidere sta roba È roba complessa Che influenza tutto il gameplay Poi se spade d'oro Che ho droppato Nel Cosa Se non posso Dopo l'andata Do sono arrivate E mi serve Do we get your style Tesseract Tesseract Tanto le enderper ce le ho Enderperle Vantaceno 7 Basta che ne sdoppio una Easy peasy Ok Tesseract frame Vai 8 addirittura Ma che me frega Ma si Ne faccio 8 di frame Ma si E li lasciamo tutti a riempire Ragazzi Per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti